Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi puntata numero 33 della nostra rubrica un esercizio logico al giorno toglie il test di torno. Come sempre prima di incominciare invito a seguirmi su Instagram al link che trovate di sotto in descrizione. Allora veniamo subito all'esercizio che ho voglia di proporvi oggi. Allora l'obiettivo del quesito è quello di individuare la sequenza corretta sulla base di una serie di indizi forniti. Per ogni sequenza errata viene indicato se sono presenti caratteri BP ben piazzati ovvero numeri di caratteri corretti nella posizione corretta. Oppure caratteri mal piazzati MP ovvero numero di caratteri corretti ma nella posizione sbagliata. Quindi ci dà quattro sequenze errate e ci dice rispetto a cosa sono sbagliate. Quindi se provo a inserire la sequenza 60-88 avrò un carattere ben piazzato e un carattere mal piazzato. Se provo a inserire la sequenza 68-35 avrò due caratteri ben piazzati e uno mal piazzato. Se provo a inserire la sequenza 60-05 trovo un carattere ben piazzato. Se invece inserisco 38-88 trovo tre caratteri ben piazzati. Devo scoprire tra queste cinque qual è la sequenza corretta sulla base di questi quattro indizi. Allora come procediamo? In questo quesito procediamo per tentativi ovvero ipotizziamo una delle possibili soluzioni tra le cinque che ci vengono proposte e vediamo se rispetta a tutti gli effetti gli indizi. Allora proviamo a ipotizzare che la soluzione corretta sia la A e andiamo a verificare se rispetta tutte e quattro gli indizi che ci vengono forniti. Allora se la corretta è la A andiamo a vedere cosa succede digitando 60-88. Allora lui mi dice che devo ottenere un ben piazzato e un mal piazzato. In realtà non ottengo questo risultato perché 60-83 e 60-88 hanno due ben piazzati che sono rispettivamente l'otto e il sei. Invece c'è un mal piazzato che è l'otto. Ma all'inizio ci suggeriva un ben piazzato e un mal piazzato. In realtà abbiamo visto che ce ne sono due ben piazzati e un mal piazzato. Quindi sicuramente la A non può essere la risposta corretta perché già non verifica la prima condizione. Quindi è inutile continuare a vedere se ne verifica le altre quattro, le altre tre scusate. Passiamo quindi a ipotizzare che la B è la sequenza corretta e vediamo di nuovo se rispetta tutte e quattro gli indizi che ci vengono dati. Allora già non verifica la prima. Allora vediamo 3-8-8-6. Allora c'è un otto che è un ben piazzato, un otto che è un mal piazzato, ma anche questo sei è un mal piazzato. Quindi avrebbe due mal piazzati e un bel piazzato. Mentre quindi l'inizio ci diceva un ben piazzato e un mal piazzato. Quindi sicuramente neanche la B non verificando già il primo indizio non è la risposta corretta e possiamo scartarla. Andiamo a verificare allora la terza opzione, quindi la C, 38-83. Allora verifichiamola rispetto al primo indizio. Allora in questo caso il primo indizio è verificato perché c'è un otto che è ben piazzato e un otto che è mal piazzato. Quindi effettivamente c'è un ben piazzato e un mal piazzato. Vediamo se verifica anche il secondo. Allora il secondo in questo caso non è verificato perché c'è un otto che è ben piazzato, c'è un tre che è mal piazzato, però lui ci dice ci devono essere due numeri ben piazzati, invece io ne ho solo uno. Quindi la C verifica il primo indizio ma non verifica il secondo. Quindi sicuramente non può essere la nostra risposta. Passiamo a verificare la D. Allora partiamo sempre dalla prima. Tre, otto, otto, cinque, quindi sessanta, ottantotto, quindi è un otto ben piazzato e un otto mal piazzato. Quindi la prima è verificata. Ho effettivamente un ben piazzato e un mal piazzato. Verifichiamo se rispetta la seconda. Allora sei, otto, tre, cinque, qui ho tre, otto, otto, cinque. Quindi sicuramente l'otto e il cinque sono ben piazzati, mentre il tre è mal piazzato. Quindi effettivamente due ben piazzati o mal piazzato. Andiamo a verificare se rispetta anche il terzo indizio. Quindi tre, otto, otto, cinque, sei, zero, zero, cinque. Allora il cinque è un ben piazzato. Quindi effettivamente c'è un ben piazzato che è il cinque come ci veniva richiesto dall'inizio. Vediamo quindi se rispetta anche il quarto indizio. Allora tre, otto, otto, otto. Allora c'è il tre che è ben piazzato, l'otto che è ben piazzato e l'altro otto che è ben piazzato. Quindi effettivamente ha tre numeri ben piazzati. Quindi rispetta tutti e quattro gli indizi. Lascio a voi la verifica che la E non rispetta simultaneamente tutti e quattro questi indizi. Quindi la risposta corretta per questo quesito è effettivamente la D. Se vi è piaciuto questo video invito a lasciarmi un bel like e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità. Date infine anche un'occhiata anche agli altri miei canali social dove pubblico aggiornamenti e altri quesiti. Ciao e ci vediamo al prossimo video.